Buoni amici, oggi, in Best Tops, vi portiamo una lista delle migliori caffettiere espresso sul mercato. Migliora le tue mattine con l'aroma di un buon caffè, con una macchina moderna, veloce e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi mostreremo i migliori venditori, i più economici e con la migliore tecnologia. Nella descrizione e nel primo commento ci sono i link per l'acquisto dove puoi controllare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Sei pronto? Eccoci! Nella top 1, la Cecotec Express Coffee Maker. Partiamo forte con l'opzione più economica della lista, di solito intorno ai 70 euro. Scegliete tra un'ampia varietà di specialità, come l'espresso, il caffè con panna, il caffè lungo, il cappuccino o il tè. Con un design in acciaio inossidabile, è elegante e compatto. Con 850 Watt di potenza, l'acqua calda è rapidamente disponibile per la preparazione. La sua potente pompa a pressione di 20 bar produce la migliore crema per il tuo caffè. Questo modello include un ugello girevole con protezione per testurizzare il latte a tuo piacimento. Inoltre, un braccio portafiltro con doppia uscita per preparare fino a 2 caffè automaticamente. Goditi buone tazze di caffè, grazie al suo serbatoio d'acqua da 1,5 litri, e mantieni tutto pulito con il suo vassoio raccogli gocce rimovibile. Si distingue per il suo sistema di risparmio energetico con spegnimento automatico in stand-by e spie luminose per ogni funzione, insieme al suo vassoio scaldatazze in acciaio inossidabile. In breve, una caffettiera molto completa, che ha la valutazione positiva di più di 9000 utenti, e quindi, possiamo solo consigliare il suo acquisto nel link della descrizione. Nella top 2, Ufesa CE 7255. Continuiamo con un modello economico di una marca con una grande reputazione e qualità, come Ufesa. Questo modello, che si può trovare a meno di 120 euro, ha 850 watt di potenza e una pressione di 20 bar, per preparare i migliori caffè e infusi. Ha due opzioni di preparazione, caffè macinato tradizionale o caffè monodose. Il suo ugello regolabile per montare il latte, riscaldare l'acqua per gli infusi o riscaldare tutti i tipi di liquidi, è efficace e veloce. Ha un design touch panel, intuitivo da usare, con spie LED, che lo rendono molto accattivante. Ha anche un sistema di risparmio energetico con spegnimento automatico. Il suo portafiltro metallico si distingue, in modo da poter preparare uno o due caffè allo stesso tempo. Ha anche un serbatoio d'acqua rimovibile con una capacità di 1,6 litri. Goditi sempre il tuo caffè alla migliore temperatura, grazie al suo vassoio scaldatazze incorporato. Inoltre, questo modello include un misurino e una pressa per il caffè. Con una valutazione di 4,1 stelle su 5, e il prestigio del suo marchio, fanno di questa macchina per espresso una delle migliori per il suo rapporto qualità-prezzo. Ricorda che hai tutti i prezzi, le offerte e le opinioni nei link della descrizione e nel primo commento del video. Nella top 3, Oster prima. Entriamo nella gamma media con una delle migliori marche sul mercato. Oster ci offre una qualità estrema nei suoi prodotti. Questa macchina per espresso ha una pompa italiana con 15 bar di pressione e una manopola per controllare la cremosità. Il suo serbatoio del latte è rimovibile, con una capacità di 300 millilitri, facile da pulire e conservare in frigorifero. Ha un ciclo automatico per la schiuma del latte e un sistema a filtro aperto per preparare il caffè con sacchetti da 45 mm o caffè macinato. Con un solo tocco, metti il caffè macinato nella tazza, mentre il latte fresco viene schiumato automaticamente. Sarà servito nella stessa tazza, sul suo vassoio a goccia rimovibile, che facilita la pulizia della vostra caffettiera. Dispone di un selettore automatico per preparare espressi, cappuccini e latte singolo o doppio. Ha anche un serbatoio d'acqua rimovibile da 1,5 litri per un facile riempimento. Porta a casa questo modello e scopri un nuovo modo di godersi un buon caffè a casa. Il suo design, il sistema di riscaldamento, le opzioni di preparazione e il prezzo lo rendono la migliore opzione della sua gamma. Nella top 4, De Longhi, dedica. Se la modernità e la varietà sono importanti per voi, questa macchina per meno di 190 euro può essere un ottimo acquisto. Con questa macchina, puoi preparare un espresso corretto o un cappuccino cremoso in pochi minuti. Ha un doppio filtro professionale, dove si possono preparare due tazze di caffè, tè o infusi. Funziona con caffè macinato e cialde Easy Serving Expresso. Inoltre, una vaschetta raccogli gocce rimovibile con indicatore del livello dell'acqua. Ha la tecnologia Thermoblock, che riscalda l'acqua in 35 secondi, alla temperatura esatta, per preparare un espresso adeguato. Personalizza il tuo caffè con la funzione Flow Stop, facile da usare, grazie al suo pannello di controllo intuitivo con tre pulsanti illuminati, che ti permette di regolare la temperatura e la quantità di caffè. In breve, una caffettiera dove è possibile mescolare vapore, aria e latte, producendo una schiuma deliziosa e cremosa, per preparare deliziosi cappuccini, o riscaldare l'acqua per le infusioni. Con una valutazione di 4,4 stelle su 5, è l'opzione meglio valutata, e ha l'approvazione di più di 17.000 utenti che l'hanno già provato, quindi ne raccomandiamo l'acquisto. Nella top 5, Breville, prima latte secondo. Se sei molto esigente quando si tratta di qualità e aroma della schiuma di caffè, questa opzione ad alte prestazioni di Breville è un best seller. Trova la qualità perfetta del tuo sorso, grazie a precise impostazioni di temperatura e pressione. Con la sua capacità di 19 bar, una tazza, puoi preparare un espresso eccezionale con crema extra, grazie ai suoi 1240 watt di potenza. Se preferisci il gusto delle tue capsule, puoi cambiare l'intensità del tuo caffè con il pulsante espresso individuale. Ha un grande contenitore per il latte rimovibile, che si può conservare direttamente in frigorifero. Godetevi i programmi preimpostati al tocco di un pulsante, espresso, cappuccino e latte, e preparate quello che vi piace di più in un istante. Una macchina da caffè che soddisfa tutte le tue aspettative. Le sue 4,3 stelle su 5 mostrano come i suoi utenti lo considerano una delle migliori opzioni da acquistare. Nella top 6, De Longhi, magnifico quello. Se stai cercando una macchina da caffè completa, funzionale ed efficace, questa macchina, a circa 310 euro, può essere un ottimo acquisto. Con questa macchina, puoi preparare i tuoi caffè preferiti con la facilità di un pulsante. Questo modello è funzionale, perché accetta caffè nero o macinato, che si può regolare secondo il gusto desiderato. Le macine coniche in acciaio sono calibrate con il 100% di precisione per i suoi 13 programmi regolabili, che macinano i chicchi all'istante. È dotato dell'esclusiva tecnologia Thermoblock, che riscalda l'acqua in 35 secondi alla temperatura esatta, ottenendo così la consistenza desiderata. Inoltre, con il suo sistema manuale di crema di latte, è possibile ottenere il punto esatto, per un caffè totalmente personalizzato. È una macchina versatile. Con un solo giro del regolatore centrale, è possibile aumentare o ridurre l'intensità dell'aroma del caffè. Puoi anche scegliere tra caffè corto, medio o lungo. Inoltre, ha un serbatoio dell'acqua rimovibile per una maggiore igiene, e la griglia della vaschetta di raccolta è lavabile in lavastoviglie. In breve, una macchina per espresso ideale per soddisfare tutti i palati. I suoi 25.000 utenti con valutazioni di 4,4 stelle su 5 lo esprimono, e noi di Best Top lo consigliamo per l'acquisto. E infine, nella top 7, Craps Roma. Se vuoi le ultime tecnologie e funzionalità, questa opzione ad alte prestazioni di Craps è un best seller. Questa caffettiera con 15 bar di pressione e 3 livelli di selezione dell'intensità del caffè, ha un regolatore con funzione di vapore automatico, per riscaldare l'acqua, il latte o preparare infusioni. Ha un sistema brevettato di blocco termico, che riscalda l'acqua ultraveloce, e riduce anche la calcificazione della caffettiera, fornendo una maggiore durata. Il suo erogatore di vapore si distingue per un'ampia varietà di bevande. È facile da pulire, garantendo comfort e igiene. Include anche un vassoio raccogli gocce largo 10,5 cm. Questo modello è dotato di un macinino integrato con 3 texture di macinatura, per godere delle tue capacità di fare il caffè. Include anche una pulsantiera multifunzionale per risultati ottimali in tutte le preparazioni. Questi includono la forza del caffè, il volume dell'acqua e la temperatura. Un modello versatile, con una capacità del serbatoio di 1,7 litri e un kit di pulizia. Da Best Top, vi consigliamo questa attrezzatura ad alte prestazioni, con la quale potrete godere di un'esperienza eccezionale nel modo di bere il caffè. Hai domande su qualche modello? Scrivete nei commenti e vi risponderemo il prima possibile. Grazie per essere rimasto fino alla fine. Se ti è piaciuto il video, sostienici con un like, e ricordati di iscriverti per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima! Grazie a tutti!